Greyhound Molti esperti in materia pensano che il greyhound possa aver avuto le sue origini nel Medio Oriente. Disegni di cani di questo tipo sono stati scoperti sulle pareti di tombe egizie, risalenti addirittura fino al 4000 a.C. Questo levriero si diffuse per tutta l'Europa nel corso degli anni, ma fu in Gran Bretagna che venne allevato in modo da arrivare a uno standard. Il prototipo dei cosiddetti cacciatori a vista o levrieri, il greyhound, ha una grande notorietà. Pare infatti che sia il re dei corridori. Un greyhound da corsa è superato in velocità solo dal ghepardo.